Nero Total Solution Buongiorno, io sono Davide Priore della società miniera. Il nostro scopo è quello di creare soluzioni ecologiche e personalizzate per la purificazione dell'acqua. Dal calcare al ferro, dall'arsenico all'ammonio, dai batteri ai virus, dalle alghe alle cisti. In questo video di presentazione vi spiegherò come possiamo aiutare tutti a eliminare definitivamente qualunque problema legato all'acqua dentro una casa. La nostra sede operativa è a Manerba del Garda, ma operiamo su tutto il territorio nazionale ed europeo, direttamente o attraverso i nostri collaboratori. Avete problemi con il calcare? Oppure, aprendo il rubinetto dell'acqua, questa scende marrone o rossastra? Oppure avete problemi di troppa o troppa poca pressione? E' capitato di subire dei danni causati dai colpi d'ariete? Avete installato un addolcitore a sale e siete stanche di portare a casa tutto quel sale? Coprate ancora acqua in bottiglia di plastica o di vetro? Perché l'acqua di rubinetto ha un gusto orribile? Ma comunque la usate ancora per cucinare, vero? Anche a noi è capitato di vedere cose simili. E per risolvere in maniera definitiva, da oltre 20 anni progettiamo, costruiamo e installiamo e facciamo una ritenzione sui impianti che, grazie ad un trattamento fisico, eliminano economicamente e definitivamente tutte le problematiche appena elencate. Prima, per eliminare il calcare, si installavano gli addolcitori a scambio ionico a sale, che sono anti-ecologici a causa del sale che usano per auto-rigenerarsi. Inoltre, nella maggior parte dei casi, rendono l'acqua trattata non potabile. Per eliminare il problema del ferro, veniva installato un deferizzatore, che funziona come un addolcitore grazie ad uno scambio ionico. Per eliminare il problema della ruggine, venivano installati a vale del contattore generale uno o più filtri, che dovevano essere sostituiti con regolarità, per non creare proliferazioni batteriche, che a lungo andare potevano creare problemi anche alla salute. Quando non c'era la pressione di casa, si doveva optare per l'installazione di un'autoclave. Se invece la pressione era troppa, bisognava installare dei riduttori di pressione e anche degli anticolpi d'ariete. Per ovviare il gusto orribile che molte acque della municipalità hanno, si acquistano le anti-ecologiche bottiglie di plastica, ma si continua a cucinare con l'acqua del binetto. Alcuni, più intelligentemente, hanno installato sotto il livello della propria cucina degli impianti con diversi stadi di filtrazione, in grado di migliorare la qualità organolettrica dell'acqua della municipalità. Noi di Miniera abbiamo progettato e costruito un impianto che risolve tutte queste problematiche. Inoltre, essendo anche un potabilizzatore, può potabilizzare acque non sicure, come quelle di pozzo, fiumi o sorgenti private. Visto che anche gli spazi sono sempre limitati, l'impianto è modulare e può essere anche diviso in più parti. Oppure, se tenuto unito, occupa meno di un metro quadro, essendo 60 cm per 80 cm. L'altezza varia secondo il serbatoio scelto. Comunque, non di più di un metro e 80. Nero Total Solution è, prima di tutto, un sistema che rende l'acqua di casa più funzionale a qualsivoglia uso, facendo ridurre fino al 90% il consumo dei detersivi, eliminando l'uso dei brillantanti o ammorbidenti, eliminando anche tutte le problematiche causate da calcare e ruggine nelle centrali termiche, caldaie, bollitori, pannelli solari, vasche da bagno, docce ed elettrodomestici in genere. Elimina il problema della prolifazione batterica, anche della legionella e della pseudomonas aeruginosa. Fa tutto questo grazie all'unione di diversi specifici stadi di filtrazione. L'acqua prodotta è talmente pura che non solo rispetta tutti i parametri di potabilità, ma le qualità organolettiche sono così eccellenti da poter eliminare tranquillamente l'acquisto in grato di tutte le bottiglie di plastica, abbattendo così l'inquinamento causato da queste ultime. È possibile, previo analisi chimico-fisica, trattare acque provenienti da sorgenti, fiumi, laghi o pozzi privati. Dato che ci teniamo molto all'ambiente e molti comprano acqua gassata in bottiglia, il Nero Total Solution viene fornito insieme ad un gasatore manuale con le sue apposite bottiglie e la bombola di anidride carbonica per non solo gassare l'acqua, ma anche per autoprodursi attraverso gli sciroppi le cosiddette bibite colorate e zuccherate per eliminare anche questa inutile plastica. La prima cosa da fare è comprendere che si possono eliminare ecologicamente i problemi di calcare, ruggine, terra, turbidità, potabilità, cloro, l'acquisto delle bottiglie di plastica e molto altro ancora con un impianto di purificazione dell'acqua. La seconda cosa da fare è smettere di comprare bottiglie di plastica, quintali detersivi, ammorbidenti e brillantanti. La terza cosa da fare è decidere di voler essere partecipi di un cambio di direzione, iniziando ad essere ecologici, non comprando prodotti meno invasivi per la natura, ma non comprandoli affatto, perché quando l'acqua è pura, tutto si pulisce senza fatica e si risparmia denaro intelligentemente. Se volete continuare con l'acqua in bottiglia, sappiate che ci sono piccoli ed economici impianti domestici, come il nostro Nero Eco Raw, che potete vedere in foto, che con soli 366 euro elimina l'acquisto di tutta quella plastica, anche quella delle bibite colorate, perché viene fornito con il gasatore manuale in omaggio. Se volete continuare ad acquistare detersivi, sappiate che è possibile creare in casa degli ottimi e super ecologici detersivi, molto meno invasivi dei più ecologici detersivi in commercio, per esempio il bicarbonato di sodio e l'acido citrico eliminano il calcare delle superfici. In rete si trovano moltissimi video in merito. Ora siete a un passo dal poter eliminare tutti i problemi legati all'acqua di casa, compreso le bottiglie di plastica e sappiamo che per fare tutto questo anche il prezzo è importante e ve lo dirò direttamente qua su questo video, così da togliere ogni possibile freno nel volerci contattare. Per una casa fino a tre bagni e due cucine, oppure una villetta bifamiliare, l'impianto Nero Total Solution ha un costo che varia tra le 6100 e le 91150 euro finito IVA. La differenza è data da un serbatoio di maggiore capacità, un autoclave più potente e dal sistema antilegionella. L'impianto può essere installato anche dal vostro idraulico di fiducia o dal nostro centro di assistenza più vicino. La manutenzione ordinaria può essere fatta anche in autonomia, ovviamente usando pezzi originali. La manutenzione annua di questo prodotto varia molto dalla qualità dell'acqua in ingresso, ma possiamo teorizzare che la spesa si aggira tra i 120 e i 240 euro all'anno. L'installazione non è compresa nel prezzo perché troppo sono le variabili per ipotizzare questo conteggio, ma in condizioni ordinarie l'installazione standard è di 610 euro IVA inclusa. Il nostro payoff è custom made water, quindi i nostri progetti sono la maggior parte dei casi costruiti su misura per il cliente finale. Perciò se avete condizioni particolari possiamo strutturare anche impianti su misura per adattarci alle limitazioni di spazio o alle strane configurazioni dell'impianto idraulico. Questo video è solo per far comprendere quanto sia semplice risolvere con un solo impianto tutte le problematiche legate all'acqua. Chiamateci o inviateci una mail per ricevere il sopralluogo di un nostro tecnico specializzato. Non aspettate oltremodo. Il calcare, la ruggine, i detersivi e le bottiglie di plastica non smettono di inquinare. In più, tutti i nostri impianti possono essere dati anche a noleggio, un vantaggio in più per tutte le società. Speriamo di aver fatto cosa gradita nell'avervi informato di questa opportunità. Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicato. A presto da Davide Priore e da tutto lo staff di Miniera.